Buongiorno, buongiorno e bentornati su TCS 3 Costa Smeralda. Il Magazine, luglio sta per andare in archivio e adesso si comincia con agosto, perché abbiamo iniziato così questo racconto per parlare di voli, di carotariffe, di controtendenza. Vediamola così, Ragnaner spiazza un po' tutti, annuncia tariffe più basse per il trimestre luglio, agosto e settembre. Sarà davvero così? Spiagge, alberghi, escursioni, ristoranti e trasporti. L'estate è sempre più cara con gli aumenti che coinvolgono il settore turistico. In controtendenza, stando all'ultimo annuncio di Ragnaner, ci sono però i prezzi dei voli low cost in ribasso per il trimestre estivo luglio, agosto, settembre. La conferma arriva direttamente dall'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, che spiega come la compagnia aerea irlandese preveda un abbassamento delle tariffe anche del 10% rispetto all'estate 2023. Un ribasso che coinvolgerà anche l'Italia. Il motivo, lo spiega lo stesso Michael O'Leary, è la conseguenza del calo nel periodo che va da aprile a giugno, in cui l'azienda ha quasi dimezzato i suoi utili. Ryanair aveva iniziato il 2024 con tariffe più care del 12% nei primi tre mesi dell'anno, tariffe poi calate del 15% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2023. Un ribasso che è andato contro le aspettative della compagnia, che al contrario pensava di aumentare i prezzi in rapporto alla scorsa estate. La compagnia low cost sottolinea invece come sia diventato più difficile vendere i biglietti più costosi, soprattutto quelli last minute. I consumatori sarebbero meno disposti a pagare 89, 99 o 120 euro per un volo, così come al momento della scelta dei posti, servizio a pagamento per volare con Ryanair, i passeggeri acquisterebbero sempre i sedili più economici. La tariffa base più bassa offerta da Ryanair resterà comunque di 14,99 euro a tratta. Da quel punto di vista il prezzo minimo non scenderà ulteriormente, ma in media ci saranno biglietti meno cari, con l'aspettativa che anche la concorrenza segue l'esempio del ribasso. Per il momento i prezzi di Ryanair sono calati del 5%, ma il CEO O'Leary non esclude che potrebbero abbassarsi anche del 10%, almeno fino a settembre. Per quanto riguarda le prenotazioni, la compagnia irlandese registra un 95% per il mese di luglio, agosto è al 74%, mentre settembre per ora è al 40%. Prenotazioni destinate ad aumentare, soprattutto con l'abbassamento dei prezzi dei voli low cost. Ne beneficerebbero anche il turismo sardo e gli aeroporti dell'isola, che registrano ogni giorno sempre più arrivi di turisti, anche grazie alle compagnie low cost. Quante volte abbiamo raccontato l'importanza dei rapporti, dei rapporti commerciali, delle strette di mano, questo in una regione come la nostra vocazione turistica, questo in una regione come la Corsica. Beh, Sardegna e Corsica si incontrano, si vedono, scambiano opinioni, cercano di mettere anche magari nero su bianco alcune novità che chiaramente riguardano non solo il turismo, ma i trasporti, tutta una serie di altre iniziative e progetti che vedete nel servizio. Grazie a tutti. 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 del campione di viaggiare con la bici nel 2024 oppure in bnb 20% i suoi soggiorni sono più lunghi rispetto a quello degli altri turisti tra i 7 e 13 giorni e un buon 15% del campione dichiara di fermarsi addirittura dalle due settimane a un mese e la sardegna rientra in pieno in questa fenomenologia anche grazie all'intuizione dell'università e di tutta una serie di attori che hanno scommesso e vinto al capitolo cicloturismo o cicloturista fate voi l'isola e il progetto della ciclovia comprende innanzitutto 19 itinerari 1147 chilometri di cui 30 sviluppati in un percorso bici e treno apprezzato pure questo il percorso anello attraversa l'intero territorio regionale toccando le quattro province sassero listano nuoro e sud sardegna e nella città metropolitana di gagliari inserita all'interno del sistema nazionale delle ciclovie turistiche l'SNCT nel 2017 intuizione giusta e sacrosanta la ciclovia della sardegna scaturisce dagli studi elaborati e dai confronti istituzionali svolti dalla regione già la mobilità e il turismo sostenibile e di bellezza da scoprire a passo lento oppure in bici e non è poca cosa anche perché c'è un altro elemento da non sottovalutare oltre la durata del soggiorno ovvero la scelta delle strutture in cui alloggiano i ciclo turisti che ci fanno capire anche perché molte località attraversate da piste ciclabili si acquista anche per un investimento da destinare agli affitti turistici la bici compresa la bici compresa ci dà l'incipite per chiudere questo magazine con un servizio dedicato naturalmente all'olimpia di domani grande cerimonia in una parigi blindata beh c'è tanta 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 sardegna e allora cerchiamo di capire chi sono i nostri portacolori la sardegna risponde presente all'appuntamento con i giochi olimpici di parigi sette atleti sardi più uno rappresenteranno l'isola e andranno a caccia almeno di una medaglia nella manifestazione sportiva più importante del mondo a sardegna c'è speriamo anche che i nostri atleti facciano degli ottimi risultati è successo a tocchio speriamo che anche a parigi si possano ripetere i nostri atleti con questi splendidi risultati rispetto all'edizione di tocchio di tre anni fa è confermata la presenza di dalia cadari e lorenzo patta nell'atletica marta maggetti nella vela stefano oppo nel canotaggio e alessia orro nella pallavolo le novità sono nicola bartolini nella ginnastica e sergio massidda nel sollevamento pesi inoltre non mancherà il velocista filippo tortu che in sardegna ha radici fortissime pur essendo nato e cresciuto in brianza l'isola aveva portato più atleti solo in altre due occasioni a roma 1960 con 14 e negli ultimi giochi olimpici di tocchio con 10 oristano è la provincia più rappresentata non solo per quanto riguarda la sardegna ma per tutta l'italia secondo l'analisi di pts che mette in relazione per ogni provincia il numero degli atleti e delle atlete presenti a parigi e la popolazione residente in un'età compresa tra i 15 e 50 anni oristano è davanti a tutti in italia con quattro atleti alle olimpiadi patta orro oppo e massidda potendo contare su meno di 57 mila abitanti nella fascia che va dai 15 ai 50 anni parigi 2024 per l'isola e i suoi atleti sarà una grande occasione per esportare il marchio sardegna nel mondo soprattutto se dovessero arrivare delle medaglie come avevano fatto a tocchio patta e tortu con la già storica medaglia d'oro nella staffetta 4 per cento e oppo con il bronzo nel canottaggio il coni orgoglioso di tutto questo ma credo che tutto il sistema sportivo sardegna sia orgoglioso quando i nostri atleti partecipano olimpiadi con anche delle ambizioni di medaglia credo che sia un qualcosa che dia lustro a tutto lo sport sardo. Sport sardo che continua ad intrecciarsi inesorabilmente con il turismo. Il turismo sportivo è sicuramente molto importante perché permette alla Sardegna di organizzare degli eventi internazionali e di altissimo livello in questi giorni vediamo a Cagliari c'è il campionato europeo di Padere dove partecipano 320 atleti quindi c'è un ritorno mediatico eccezionale prima c'è stato un torneo internazionale sempre di Padere la settimana scorsa che dove ci sono stati veramente e dove hanno partecipato i più grandi giocatori i più forti giocatori al mondo quindi anche questo secondo me dà lustro a tutto il sistema anche perché poi gli eventi se ne organizzano tanti e sono tutti di altissima qualità. Mentre invece per quanto riguarda insomma i nostri atleti che partecipano alle Olimpiadi e soprattutto quando raggiungono un livello sportivo così alto danno qualità sicuramente a tutto il sistema della Sardegna ma soprattutto insomma danno veramente orgoglio a tutto quello che noi pensiamo che sia lo sport perché questi ragazzi poi diventano chiaramente delle figure di riferimento dove fanno sognare anche tutti i ragazzi che praticano lo sport. Bene termino qua vi do appunto avvento alle prossime edizioni con il nostro magazine per chi non c'era c'è il sito tcs.tv Grazie